Musica C'è messo due fogli di gatti hanno dato il loro segno di solidarietà in questa manifestazione Maria Costiera a prima di otanzi ha concesso l'uso del 160-170 a parte tanti circoli hanno avverito e quello che oggi porteremo a casa qualunque sia la cifra, da un euro a 20 ragazzi, buon vento a tutti e grazie ancora due minuti ancora questi cinque daremo un segnale per i cinque minuti con un segnale a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti qua dietro grazie a tutti 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 grazie a tutti